Le sorti della Torre Sela nella zona di Via Grezza-Riva del Garda potrebbero volgere al meglio, grazie all'approvazione unanime in Consiglio di Comunità, di una mozione presentata dal gruppo consigliare Obiettivo Comunità del primo firmatario Marco Bottesi. All'interno del nuovo compendio ITEA di Via Italo-Marchi vi è una torre la cui epoca di costruzione non è nota. Alcune ipotesi farebbero pensare a una torre colombaia, elemento caratteristico dell'architettura rurale che potrebbe ricollegarsi a una parte importante della storia medioevale alto-gardesana e rivana in particolare. Se questa fosse l'epoca di costruzione, chiariscono i consiglieri, tale torre sarebbe da mettere in relazione con il complesso di case all'alboletta la cui origine risale al Medioevo. La mozione, votata con l'approvazione di tutti i consiglieri di comunità, impegna il Presidente e il Comitato Esecutivo a sollecitare la proprietà, ovvero ITEA, a un'eventuale ristrutturazione e recupero del manufatto. Qualora ITEA non avesse interesse a restaurarla, le si chiederà di cedere la Tore Sela a titolo gratuito all'ente pubblico preposto, sia esso comune, provincia o sovrintendenza, che si assumerebbe l'intero onere del restauro, riconsegnandolo successivamente alla cittadinanza.